Una guerra costituita da un guardamento, è il principio che pensi che sia giusto fare per il principio? No, no, il senso non è questo. Il senso è che lui ha scritto dei versi che sicuramente sono contro qualsiasi tipo di guerra. Sì, però se c'è un tipo di guerra, una giusta causa che lui ammetterebbe. Se c'è una giusta causa, una guerra, un tipo di guerra, che lui ha scritto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.